La nuova dimensione della driving experience. Guarda al futuro con il nuovo Peugeot 2008. Con Eco Bonus Peugeot Anticipo Zero da 189 euro al mese. Peugeot. Un ciao a tutti voi da Rosi, appuntamento dalla nostra vetrina dell'auto con Stefar, concessionaria Peugeot. Accanto a me, sempre con le distanze naturalmente, è Matteo, che saluto. Ciao Matteo. Buonasera a tutti. E Marco. Buonasera. E ora sicuramente Matteo andremo a vedere delle promozioni davvero interessantissime. Assolutamente sì, Rosi. Buonasera a tutti anche da parte mia. Oggi ci troviamo nella concessionaria Stefar, nuova concessionaria Peugeot a Bologna. Siamo in via Emilia Levante 18, a pochi minuti dall'uscita 11 bis della tangenziale e sotto la stazione del Ponte Vecchio, quartiere Mazzini. Vi ricordo che di fianco al salone abbiamo l'officina autorizzata Peugeot, pertanto riusciremo a seguirvi sia nell'attività di vendita che nell'attività di post vendita per quanto riguarda tagliandi e manutenzione della vostra auto. Ma ora direi di andare a vedere le offerte di questo mese insieme a Marco perché c'è veramente tanto da scoprire. Matteo, Matteo, perché solo tu e Marco andrete a presentare? Guardate che qui in Stefar trovate anche Lorenzo. Ciao Lorenzo. Buonasera Rosi, buonasera a tutti. Effettivamente hanno provato a escludermi ma non ci sono riusciti. Sono qui in compagnia della nuova 108, la Citycar di casa Peugeot. Una vettura lunga 3,47 metri, omologata per 4 persone con 5 porte. È una vettura molto compatta, facile da parcheggiare ma anche ricca di optional, come ad esempio lo schermo touchscreen da 7 pollici, il kit mani libere Bluetooth, i comandi al volante e il climatizzatore manuale. Solo per questo mese Peugeot 108 può essere vostra ad anticipo zero a partire da 99 euro al mese per il primo anno. Lorenzo, rubiamo ancora un po' di scena a Marco e Matteo. Ti faccio presentare anche la 208. Assolutamente sì Rosi. Allora, eccoci qui in compagnia della nuova 208, vettura eletta macchina dell'anno per il segmento B. La 208 si presenta in tre allestimenti fondamentali. L'Active che è l'allestimento di partenza, spostandoci poi sull'Allure che sarebbe l'allestimento intermedio per poi arrivare fino al Jetty Line, l'allestimento più completo e più sportivo. 208 si presenta fondamentalmente su tre motorizzazioni, le classiche diesel e benzina per poi passare al 100% elettrico. Su tutti gli allestimenti troviamo già tutti i sistemi di sicurezza, i cosiddetti sistemi ADAS quali mantenimento della carreggiata, rilevamento stanchezza del guidatore, riconoscimento dei segnali stradali e riconoscimento dei limiti di velocità. E anche la frenata assistita con rilevamento pedoni o rilevamento vettura. Tutte le vetture sono dotate di serie di touchscreen 7 pollici con mirror screen e 6 altoparlanti, fari anteriori eco LED, retrovisorie esterni con indicatori di direzione integrati. Quindi come avete sentito insomma in tutti gli allestimenti davvero trovate tantissimi accessori già di serie, ma ora ci siamo trasferiti su questo spettacolo. Sì, effettivamente Rosi questa vettura è veramente bellissima. Siamo passati sull'allestimento GT Line, l'allestimento più completo e sicuramente l'allestimento più sportivo. Questo allestimento propone di serie il tetto bicolor, i passaruota neri, la fanalleria anteriore completamente full LED, i sensori di parcheggio posteriori e anteriori, più la retrocamera attiva per la retromarcia con la visione a 180 gradi. Quindi anche questa super accessoriata, il nostro invito è sempre quello di venire personalmente per avere l'opportunità di vedere dal vivo queste vetture. Perché poi hanno tanto altro, ma noi non è che abbiamo tutto il tempo di raccontare tutto, il cruscotto digitale 3D, la possibilità del mirror link. Insomma ci sono tantissime cose e la vedo sempre più spesso sulle strade perché è una vettura che davvero piace tantissimo alla nuova 208. Quindi venite a scoprire qui il tutto e venite a scoprire anche la promozione anche se qualcosa ve la raccontiamo già noi. Infatti Rosy, come dicevamo, soltanto per questo mese vi ricordiamo che potete avere Peugeot 208 con anticipo zero a partire da 149 euro al mese per il primo anno. Perfetto, quindi abbiamo parlato di 208, non abbiamo ancora parlato di motorizzazioni, adesso andremo a vederle insieme e soprattutto andremo a parlare anche della versione full elettrica che è sicuramente una delle più richieste in questo momento. Assolutamente sì, è proprio così Rosy, effettivamente a parte le classiche motorizzazioni, quindi il diesel e il benzina, troviamo anche la versione 100% elettrica che adesso vi andremo ad illustrare. Nella versione 100% elettrica troviamo una vettura con un motore da 136 cavalli e con una potenza di 50 kilowattora. La troviamo in tutti gli allestimenti, quindi partendo dall'Active, passando all'Allure per poi arrivare al GT Line. Vi ricordiamo anche che nello specifico la 208 nella versione elettrica ha un'autonomia effettiva di 300 chilometri e vi ricordiamo inoltre che la vettura è caricabile con una semplice presa direttamente da casa vostra. Andiamo invece adesso ad illustrarvi l'offerta e vi ricordiamo che soltanto per questo mese potrete avere la nuova E208 con anticipo zero a partire da 219 euro al mese per il primo anno. Bene, per sapere altri dettagli naturalmente di queste vetture, per provarle, per vedere quale versione è guidabile anche da neopatentato perché c'è, vi invitiamo a venire qui personalmente a parlarne con Matteo e Marco ma anche con Lorenzo. Vi aspettiamo. Siamo ora in compagnia di SUV 3008 e della sorella maggiore 5008 configurabile 7 posti. Per entrambe parliamo di versioni benzina diesel, entrambe con cambi manuali e cambi automatici 8 rapporti. Solo per 3.800 però parliamo di una versione ibrida plug-in dove abbiamo due possibilità, il 225 cavalli a trazione anteriore o il 300 cavalli Hybrid 4 a trazione integrale. Vi ricordo che abbiamo già la possibilità di ordinare i nuovi modelli che arriveranno in concessionaria tra dicembre e gennaio. Abbiamo un'offerta super accattivante per quanto riguarda la versione ibrida da 225 cavalli. Parliamo infatti di un anticipo zero e rate a partire da soli 349 euro al mese per i primi 12 mesi. Ed eccoci al fianco di nuova Peugeot 2008, mini SUV in casa Peugeot. Nello specifico qui troviamo una versione GT, parliamo del full optional ancora sopra l'allestimento GT Line. Come detto poi per la versione 208 parliamo di 2008 come uno sviluppo in grande della versione 208. Troviamo gli stessi allestimenti a partire da Active per poi passare a una versione Allure con la variante Navi Pack per poi arrivare su GT Line e GT. L'offerta all'interno delle motorizzazioni parliamo di motori turbo benzina partendo da un 1200 cavalli per poi passare a un 1230 cavalli configurabile sia nella versione manuale sia nella versione automatica 8 rapporti. Stesso discorso per le motorizzazioni diesel, tutti turbo diesel, tutti cilindrata 1500 dove troviamo la versione da 100 cavalli in versione manuale oppure la variante 130 in versione automatica o manuale. Un'offerta completa sotto tutti i punti di vista in termini di estetica e di linea e ovviamente anche di funzionalità e accessori. Ci tengo a precisare che abbiamo grossa disponibilità di pronta consegna. A tal proposito un'offerta commerciale molto interessante solo per questo mese e ci tengo a sottolineare zero anticipo quindi accessibile a tutti a partire da 189 euro al mese. Pensavate che mi dimenticassi invece sono qui per parlarvi della versione elettrica anche di Peugeot 2008. Come per 208 parliamo di un motore da 136 cavalli, 50 kilowattora la capacità della batteria, singola carica con meno di 10 euro e una percorrenza totale tra i 300 e i 310 chilometri. Offerta commerciale dedicata veramente interessante, parliamo di anticipo zero e rate a partire da 279 euro per il primo anno. Ricordo tutti gli allestimenti possibili e quindi Active, Allure, Allure Navipack, GT Line e l'allestimento dedicato GT con interni alcantara e navigatore da 10 pollici. Eco bonus, non dimentichiamocene, 5.000 euro per tutti i clienti e fino a 8.000 euro in caso di rottamazione di veicoli con più di 10 anni o antecedenti all'Euro 4. Ed eccoci con Peugeot 308, beh che dire, vettura che troviamo in due segmenti, nella versione berlina e nella versione station wagon. In termini di allestimenti naturalmente come per tutta la gama Peugeot troviamo le versioni Active, Allure e GT Line. Per quanto riguarda viceversa le motorizzazioni abbiamo un'offerta che parte da motore benzina, turbo benzina, 1.2 da 100 cavalli e viceversa al 1.2 da 130, naturalmente già con il cambio aggiornato automatico 8 rapporti, stesso discorso per le motorizzazioni diesel, turbo diesel 1.5 di cilindrata con 100 cavalli come motore di partenza per poi passare al 130, configurabile naturalmente sia nella versione manuale che nella versione automatica 8 rapporti. Ci tengo a precisare che abbiamo grossa disponibilità di pronta consegna ma soprattutto chilometro zero, come appunto nel caso specifico della vettura che ci troviamo qui a fianco, una versione Active, 1.500 cavalli diesel con l'aggiunta dei cerchi in lega da 17, cerchi in lega che solitamente troviamo nelle versioni GT Line, con l'aggiunta ulteriore del ruotino di scorta. Nello specifico questa vettura la troviamo a un prezzo di partenza di 19.500 euro escluso di passaggio di proprietà. Solo per questo mese, oltre ad avere grossa disponibilità, come già detto di chilometro zero e pronta consegna, abbiamo un'importante offerta commerciale su Peugeot 308, nello specifico nella versione berlina con il motore 1530 cavalli turbo diesel. Troviamo un'offerta a partire da 199 euro al mese, naturalmente come per tutta gamma Peugeot, sottolino ad anticipo zero. E allora Lorenzo? Allora dato che Marco e Matteo mi hanno escluso fin dall'inizio, adesso i saluti finali li facciamo noi Rosi. Vi ricordiamo che vi aspettiamo qui nella nostra concessionaria di via Emilia Levante 18, anche volendo per organizzare un test drive in totale sicurezza e nel totale rispetto delle norme anti-covid. Nel caso in cui non poteste venire a trovarci, vi invitiamo comunque a visitare le nostre pagine social, oppure direttamente il nostro sito ufficiale stefar.com. Quindi a questo punto come salutiamo Lorenzo? Vi aspettiamo in stefar, quelli del leone! E ora in compagnia di DS Store Bologna, ma soprattutto di Federico. Ciao Federico! Buonasera Rosi, buonasera a tutti, benvenuti nello showroom di DS Bologna. Siamo in via Paolo Bovi Campeggi numero 4, a due passi dalla stazione centrale, ma soprattutto vicinissima al centro di Bologna. DS è il brand di lusso del gruppo PSA e proprio per questo cura tutti i dettagli delle sue vetture. Ora vi presento DS7, che è il SUV per eccellenza del gruppo, lungo 4,59 metri, quindi 4,60 metri. È un SUV molto elegante, allo stesso tempo confortevole e in alcune versioni anche molto sportivo. Come questa, che potete vedere nelle immagini, è una performance line, versione business, una versione con l'interno completamente in alcantara, un cerchio in lega da 19, i DS Active LED Vision anteriori, che sono questi fari adattivi che ruotano in base a come ruota il volante, quindi vedete proprio il fascio di luce che si sposta nella direzione in cui state andando con la vettura. Ovviamente in questa vettura abbiamo tutti i sistemi di sicurezza avanzati inclusi, quindi dalla guida semi-autonoma alla correzione della traiettoria e alla frenata assistita d'emergenza. DS questo mese ci ha dato la possibilità di incentivare veramente in maniera molto, molto forte la motorizzazione a gasolio da 180 cavalli, quindi vi aspetto in concessionaria per vedere le sorprese che questa motorizzazione avrà. Da questo mese è possibile ordinare anche il nuovo motore ibrido, che è un 4x2, da 225 cavalli, motore benzina ed elettrico, con la possibilità anche di andare soltanto in elettrico, perché stiamo parlando di un ibrido plug-in. Oppure nella versione da 300 cavalli 4x4, sempre con la possibilità di scegliere la tipologia di guida e quindi selezionare soltanto la versione elettrica, dove avete la possibilità di viaggiare per 60 km in autonomia con la vostra vettura. Come ogni brand di lusso, DS vi dà la possibilità di poter essere acquistata con tutte le formule finanziarie, quindi parliamo di noleggio, finanziamento oppure leasing. Questo mese proponiamo una versione di finanziamento a valore futuro garantito, da partire da 299 euro al mese, con un piccolo anticipo iniziale e con la possibilità, fra 3 o 4 anni, di rincontrarci per poter decidere se continuare il vostro percorso in DS con la stessa vettura oppure venire qui e cambiare macchina. Ora vi presento DS3 Crossback, il piccolo crossover del brand di lusso del gruppo PSA. Nella sua lunghezza di 4,12 metri possiamo trovare eleganza, sportività, ma allo stesso tempo il comfort che il cliente cerca. DS3 come DS7 si caratterizza in tutti i suoi particolari, quindi dalla tecnologia all'eleganza e ai particolari. Anche in DS3 abbiamo la possibilità di andare a inserire i DS Active LED, che sono anche essi dei fari adattivi. DS3 la possiamo avere nelle versioni benzina o diesel, oppure 100% elettrica, con un'autonomia di 300 km, ricaricabile presso la Wallbox, la classica torretta che possiamo trovare anche in giro per la nostra città, oppure con la 220 di casa. Vi invito a venirmi a trovare perché su DS3 Crossback possiamo arrivare fino a uno sconto totale di quasi 8.000 euro. Anche essa è possibile averla nelle varie tipologie di acquisto. Noi proponiamo un finanziamento a valore futuro garantito, fidelizzante, in modo che ci possiamo rincontrare tra 3 o 4 anni per poter valutare di tenere la vettura oppure cambiarla. Questo finanziamento viene proposto a 179 euro al mese, con un anticipo iniziale. Questo mese abbiamo a disposizione anche dei chilometri zero, sia per DS3 che per DS7. Vi invito a visitare tutte le nostre piattaforme social, dsbologna.it oppure la nostra pagina su Facebook, dove è possibile addirittura andare a visualizzare direttamente online, sempre aggiornato, il nostro stock disponibile. Mi raccomando, non abbiate paura a venirmi a trovare perché stiamo seguendo tutti i protocolli di sicurezza, quindi tutte le vetture sono igienizzate. Vi ringrazio e vi aspetto in concessionaria. Grazie.